Allora ero deputato, c'era stata Tangentopoli, le denunce di Tangentopoli a cui avevo partecipato mi aveva colpito il fenomeno dei suicidi giudiziari, come li ho chiamati, perché si capì che avvenivano non tanto in carcere, quanto fuori dal carcere, dopo il carcere, quando magari già era stato prosciolto l'interessato e quindi c'erano delle questioni che riguardavano più il clima generale che non la situazione giudiziaria.